Ha fatto tappa a Catanzaro una vita da social, la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il patrocinio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dei progetti di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete per i minori. Ad illustrarne i contenuti il questore Amalia Di Ruocco. I rischi per i minori sono tantissimi, il guaio è che loro non se ne rendono conto e spesso anche i loro genitori non ne hanno consapevolezza, quindi queste iniziative sono importantissime proprio perché ci consentono di avvicinarli, di parlare loro in maniera semplice e comunque adeguata all'età perché riceviamo gruppi dall'elementare fino al liceo, i discorsi sono chiaramente diversi e far venire fuori un po' anche certi dubbi perché a volte nell'approccio con internet è importante che i ragazzi si fanno delle domande, si pongono dei problemi, si facciano venire dei dubbi e possano poi chiarirsi con delle persone esperte e competenti come sono in particolare le polizie ottime, in particolare quelli della polizia postale.